Ben ritrovate lo spazio dedicato agli appuntamenti. Partiamo questa sera ricordando per giovedì 26 settembre la festa dei 30 anni al Teatro Sociale alle ore 21. Una serata di divertimento e spettacolo con ospite a sorpresa. L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione. Nuova edizione del Festival Corto Lovere che preme ai migliori cortometraggi. Presidente di giuria Laura Morante. Appuntamento da giovedì 26 settembre fino a sabato 28 al Teatro Crystal di Lovere. Per maggiori informazioni consultare il sito www.cortolovere.it. Per la serie di incontri dell'edizione 2013 di Molte Fedi sotto lo stesso cielo ricordiamo l'appuntamento di generazione in generazione tra memoria e futuro. Un Alexio Magistralis del Cardinale Gianfranco Ravasi che si terrà al Teatro Donizetti venerdì 27 settembre alle ore 20.45 la prenotazione obbligatoria. Ma parliamo di benessere con l'incontro con la dottoressa Francesca Scarano psicologa e psicoterapeuta dal titolo Il potere del sentire, piacere e piacersi. Appuntamento venerdì 27 settembre all'auditorium Centro Culturale Gritti e Aranica alle ore 20.30. Concludiamo ricordando il consueto appuntamento con il tour del mistero, un itinerario guidato a piedi attraverso le atmosfere notturne di Bergamo Alta. Il ritrovo è l'ex chiesa di Sant'Agostino alle ore 21.15. Il ritrovo è l'ex chiesa di Sant'Agostino alle ore 21.15.